Come si vince dal nome, la famiglia Sheen è realizzata in un materiale lucente ed è la versione più contemporanea e divertente delle nostre giacche Super Lightweight, progettate per avvolgere perfettamente il corpo e proteggerlo dal freddo. Il tessuto è un twill 20 denali di poliestere nylon, imbottito in piuma d'anatra 90-10 che mantiene il calore. La giacca è chiusa da una pratica zip a doppio cursore. Le aperture di aereazione sotto le braccia garantiscono la giusta traspirazione. Il cappuccio è facilmente rimovibile e regolabile a piacimento grazie alla pratica QLIS. Le due tasche zippate e le due con bottone sul davanti sono perfette per tenere calde le mani, mentre le due tasche a rete interne sono un'ottima soluzione per riporre gli oggetti di valore. L'iconico patch PJS una manica a sinistra è il segno distintivo di qualità ed esclusività di Pora Jumpers.